E' lì da mezzo secolo e da un lustre sottoposto a periodici stralci di lavori e di riqualificazione che ora intravedono l'ultimo miglio del completamento. Il cavalca ferrovia de sabato è pronto all'ultimo cantiere, quello della manutenzione straordinaria. Un cantiere che inizierà i primi di marzo e durerà un anno. Il semaforo verde alla partenza è arrivato ad inizio settimana dopo l'incontro fra il comune, la ditta Brandi Costruzione alla quale è stato assegnato un mese fa l'appalto da 3 milioni per il quale si erano presentate altre 183 ditte e Ferrovie Italiane che parte integrante della partita visto che questa volta si andrà a intervenire anche sopra i binari. Un'arteria strategica per la città, importantissima e che ci vedrà quindi impegnati per tutto il 2023 in un intervento complicato, complesso e delicato, importante. Come dicevo, sono 3 milioni di finanziamenti ottenuti da un bando, il bando ministeriale del Ministero dell'Interno, poi transitate nelle risorse PNRR, che ci consentiranno quindi di andare a sostituire i cordoli ammalorati, andare a sostituire le barriere laterali, prevedere una nuova illuminazione, un'illuminazione che riprenderà anche quella storica, quindi con la realizzazione di una strip LED e di un'illuminazione invece per la messa in sicurezza potenziata della strada. Il Comune aveva completato un primo intervento con risorse proprie, agendo su messa in sicurezza di cordoli e guardrail e ora l'intervento più delicato. Un lavoro complesso perché alcune lavorazioni, in particolare ad esempio quelle che insistono sopra i binari del treno, richiederanno lavorazioni negli orari notturni, richiederanno in alcuni casi anche in sinergia, andremo a realizzarlo insieme a RFI perché è possibile che venga prevista in alcune ore la sospensione del traffico ferroviario. L'ultimo incontro con RFI in particolare ha convenuto che sarà sospesa in più occasioni il transito dei treni merci, mentre non si dovrebbe sconvolgere la percorrenza dei treni passeggeri. Nel 2024, al termine del cantiere, il ponte tornerà a quattro corsie. Ok.